A Giulianova, nell'area della pineta nord del Lido, che si trova a poca distanza dalla foce del fiume Salinello, residenti e turisti lamentano la totale mancanza di senso civico di chi arriva e lascia rifiuti ovunque le auto parcheggiate in modo caotico, situazione che si aggrava in particolare la sera sotto accusa anche la musica ad alto volume. In questi giorni sono state diverse le segnalazioni arrivate in comune su cui il sindaco Ivan Costantini è intervenuto annunciando maggiori controlli. Sì, lo stiamo verificando insieme agli uffici comunali, al comandante dei vigili urbani, faremo i dovuti accertamenti partendo però da una considerazione che in quella pineta oggi c'è un'attività che dà comunque delle risposte al comparto turistico e ricreativo. Quando ci siamo insediati quella zona era nel più totale abbandono ed era il recittacolo appunto di malintenzionati. I residenti sperano che il problema più volte segnalato possa essere affrontato in maniera incisiva ripristinando condizioni di igiene pubblica, ordine, sicurezza e tranquillità. Naturalmente le regole vanno rispettate quindi noi saremo qui per vigilare ma ricordiamoci che questo problema sulla pineta nord c'è praticamente da sempre. Adesso stanno nascendo delle attività, in realtà già c'erano ma hanno ripreso vigore le attività e noi sappiamo che quando c'è vita solitamente i malintenzionati non scelgono più quel posto e vanno d'altrove quindi cercheremo in ogni modo di continuare a vigilare, di far rispettare le regole e di pulire, di tenere pulito. Abbiamo già fatto degli interventi grazie alla società di pulizie ecotetiche, quella che in questo momento è il contratto in essere e cercheremo però anche col comandante di vigili di vigilare sui parcheggi. Naturalmente lì ci sono delle strutture che ospitano diversi turisti quindi ci teniamo particolarmente affinché si possa svolgere una stagione estiva con la massima serenità e tranquillità e che tutti possano trovare appunto il loro giusto compromesso tra chi naturalmente vuole portare avanti le proprie attività e chi vuole venire in vacanza qui a Giulianova in maniera tranquilla e serena.